oggetti di valore culturale. Sono danneggiati, ma vale la pena di restaurarli. Avvicinati, che ti mostro la mia merce. Prego! Non basta per concludere l'affare. No, ho una famiglia da sfamare. Così mi rovini. Non basta per concludere l'affare. Mi spiace, ma non mi sembra un buon affare. Impossibile. Non ci sta nient'altro. Ottima scelta. Prego! Prego! Un buon affare per entrambi. Prego! Ottima scelta. No, ho una famiglia da sfamare. Così mi rovini. sono sempre pronto a fare affari. Giona, ho trovato delle rovine in...